La quieta Torino di stamani può diventare caos caricato di paure Covid alla finale degli europei di domani sera. Il prefetto ci racconta le misure di sicurezza. Ci sono delle ordinanze del comune, della sindaca, che riguarderanno soprattutto la vendita di alcolici, per cui gli esercizi vicinati chiuderanno alle 21, la somministrazione non andrà oltre alle 24 se non al tavolo per quanto riguarda bar e ristoranti. Poi ci sarà un incremento della vigilanza nelle zone della Movida. Il prefetto confessa che comunque spera in un gol d'insigne, ma fa questo invito. Gioiamo con responsabilità. La grande festa, la grande delusione non viene neanche considerata, verrà celebrata nei bar, nei ristoranti, mai privi di grandi schermi finora, ma stavolta è diverso. Gli esercenti sono indecisi, fanno sondaggi fra i clienti, qualcuno teme, citiamo, ci portino via tutto. La signora i suoi 65 pollici nel deor di Piazza Vittorio li metterà. La gente fa piacere vederlo insieme e quindi di conseguenza stanno alla compagnia. La nazionale aiuta i locali a rifare clientela. Certo, certo, sarò io la prima a saltare fuori se vengiamo. In provincia invece i maxi schermi pubblici o privati abbondano. Segnaliamo a Vigliana, a Venaria, all'ippodromo di Vinovo. Qualcuno pensa già a organizzare i caroselli d'auto senza esagerare. Grazie.